Crutch, Bind, Set. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Allora, oggi parliamo delle altre squadre. Parliamo, commentiamo non solo l'Italia, abbiamo parlato tanto dell'Italia, ma commentiamo le altre squadre del Sei Nazioni. Quindi, l'Inghilterra e poi le altre due partite, la partita, il big match tra Francia e Irlanda e poi la partita folle del Millennium, del Municipality in Galles, tra appunto Galles e la Scozia di Finn Russell. Però, prima di iniziare, e alla fine faremo anche il Team of the Week, la squadra della settimana, la squadra del primo round del torneo di rugby più bello del mondo. Sì, forse per fascino questo è addirittura meglio del mondiale. Non lo so, non lo so. Scrivetemelo nei commenti. Preferite il Sei Nazioni o il mondiale? Sono due tornei diversi, dal fascino diverso, ma tutti e due veramente splendidi. Però, prima di iniziare a raccontarvi, fatemi ricordare Enervit. Enervit, partner del canale, lo voglio ricordare perché sotto in descrizione avete un'opportunità veramente, veramente figa. 25% di sconto. Ragazzi, 25% è veramente tanta roba. Andate sul sito, sottotrovate tutte le modalità, ma insomma, andate sul sito Enervit.com e con il codice sconto Dampat avete il 25% di sconto. Leggete sotto su cosa, ma su quasi tutto, tranne una linea specifica. Ricordo i partner del canale, anche perché li voglio ringraziare. Mi dimentico ogni tanto di farlo, ma non bisogna assolutamente darlo per scontato, perché insomma, lo avete visto, dal mondiale in poi sono iniziate ad arrivare delle collaborazioni. Enervit, The Rugby Catalog, ancora prima, le telecamere Veo, l'applicazione Nana e fra poco ne arriverà anche un'altra veramente molto, molto carina e spero per voi molto utile. E questo che cosa significa? Significa che il lavoro che stiamo facendo stiamo io che metto la faccia, il team che piano piano si è andato unendo al canale di persone strappassionate di rugby che vogliono mettere il loro mattoncino e aiutarmi nella crescita, ma poi soprattutto di tutti voi, di tutti voi che guardate i video, mettete like, attivate la campanella, vi iscrivete. Beh, insomma, questo lavoro è assolutamente visto e riconosciuto anche dei marchi veramente importanti. Quindi, insomma, grazie a voi e grazie a chi mi dà fiducia. Ma andiamo avanti, andiamo avanti, parliamo di rugby. Allora, dell'Italia abbiamo già detto tanto e altro diremo poi quando faremo la preview della partita con l'Irlanda. A quanto detto, aggiungo solo un paio di cose, un paio di cose sull'Inghilterra. Una l'ho pubblicata ieri anche su Facebook e ho fatto un commento dove dicevo che leggevo tante considerazioni sull'Inghilterra così, in qualche maniera un po' riduttive. Ecco, la parola giusta è riduttive, ossia sì, l'Inghilterra è arrivata terza al mondiale solo per il girone, fa un gioco bruttissimo, eccetera, eccetera. E da un lato ho detto che ci sta, e anche a me non piace tantissimo il gioco dell'Inghilterra, però ragazzi, non so se vi ricordate la semifinale. Adesso dimentichiamoci il quarto di finale, dimentichiamoci i gruppi, ma la semifinale, la semifinale. Oggi stiamo celebrando il Sudafrica come i due volte campioni del mondo e, beh, insomma, a 12 minuti dalla fine l'Inghilterra stava avanti di 15 a 6. Era sopra break a 12 minuti dalla fine, no? Poi, ancora a 5 minuti dalla fine, era ancora avanti. E se non gli danno quella punizione in mischia, si è discusso molto con quel fallo di Ellis Gange, ve lo ricordate, senza nemmeno un reset da parte dell'arbitro, beh, quella partita probabilmente finisce in un'altra maniera. Stiamo raccontando un'altra storia e magari la finale sarebbe stata All Blacks Inghilterra. Quindi, insomma, ok, va bene, chiamiamola un'Inghilterra triste. Diciamo che Bortwick ha un gioco sterile e noioso, però questi quasi si vanno a giocare la finale del Mondiale, eh? E allora, che cosa ci portiamo a casa di questa Inghilterra dopo la partita con l'Italia? Ci portiamo a casa tutto quello che non è il bel gioco nel multifase. Detto che poi una delle due mete l'Inghilterra ce la fa comunque facendoci un line break nel multifase. Però per il resto l'Inghilterra, va bene, lì non sarà spettacolarissima, ok. Però intanto sta mettendo a posto tutti i fondamentali del nostro gioco. Rimessa laterale. Ogni tanto si sottovaluta l'importanza della rimessa laterale nel rugby. Pensate che, per esempio, leggevo una statistica l'altro giorno, che quasi il 50% delle mete del top 14, un campionato con un ampio, diciamo, metro di parametro, bene, quasi il 50% delle mete del top 14 vengono da rimessa laterale, per esempio. E credo che i numeri nelle sei nazioni non dovrebbero essere molto diversi. E l'Inghilterra ha avuto un'ottima rimessa laterale, soprattutto difensiva. Abbiamo partito le pene dell'inferno. La molla dalla rimessa laterale, poi arriva la molla. E sappiamo quanto Boltwick sappia lavorare su questo aspetto, sia offensivo che difensivo. La mischia, sì è vero, nel secondo tempo li abbiamo messi un po' in difficoltà, però è difficile che la mischia dell'Inghilterra crolli completamente, no? Difatti non è crollata. Ci siamo presi un paio di punizioni, ma non è crollata. I calci d'invio, i calci d'invio, particolare che viene molto, ma molto spesso sottovalutato, ma pensate che in una partita dopo ogni segnatura c'è un calcio d'invio. Quindi, come li sai gestire? E l'Inghilterra probabilmente, la partita con l'Italia l'ha vinta quasi lì, principalmente lì. E poi ovviamente la difesa. Bene, sì, è vero, il multifase in attacco. Ok, ma è una cosa che è relativamente marginale nel rugby di oggi. Ossia, è bello, è il rugby, è quello che ci fa innamorare di questo gioco, però se ci pensate, quando e dove si sviluppa? Nella zona dalla metà campo ai 22 del campo offensivo e a volte negli ultimi 10 metri del proprio campo. E tutto il resto sono partenze da fasi statiche, situazioni preparate. Ecco, l'Inghilterra tutta questa roba ce l'ha molto, molto chiara in testa. E attenzione, perché io sono il primo ad amare il gioco alla neozelandese o anche agli antipodi, quello francese che lascia grande spazio all'iniziativa individuale, ma intanto Borthwick sta cementando un rugby che potrebbe forse già ora essere fastidioso. E la Francia che ride tanto perché lo prendono sempre in giro al povero Borthwick e dicono, ah, il gioco più brutto mai visto, eccetera, eccetera, deve stare attenta, deve stare attenta. A proposito di Francia, a proposito di Francia, qua si apre un capitolo di quelli, avevamo detto che Francia e Irlanda sarebbe stata uno spartiacque tra due bestie ferite, due squadre che uscivano ridotte malissimo, soprattutto mentalmente dal mondiale, e due squadre che perdevano alcuni pezzi importantissimi. Sexton e Dupont su tutti. Sì, la Francia lo recupererà Dupont l'anno prossimo. E avevo anche detto che, secondo me, chi avrebbe perso questa partita rischiava di affogare, di affogare proprio nei problemi. L'altra invece magari avrebbe trovato un potenziale salvagente, una spinta. Beh, se la mia lettura si dovesse confermare, la Francia adesso sta andando un po' sotto con la testa, no? C'ha l'acqua che già probabilmente ha superato il livello del naso e sta iniziando ad annaspare. In Francia hanno messo Galtier sulla graticola. Quello che sembrava... Perché poi quando vinci, tutto viene in qualche maniera magnificato, e quando perdi, tutto diventa invece un problema. È incredibile come basti un punto di differenza a volte per cambiare la percezione delle cose in maniera radicale, no? Bene. Prima Galtier sembrava il genio, colui che con uno splendido progetto era riuscito a coinvolgere tutte le parti. Bene, adesso lo chiamano ruffiano. Dicono sì, tu ce la racconti, però alla fine va poco serio, poco serio. Si era parlato del nuovo stile French Flair, no? Hanno fatto delle conferenze dove spiegavano, hanno messo in YouTube tutta la spiegazione del loro sistema di gioco, fatto di pressione, di ripartenze, di iniziative individuali, di rinuncia del pallone. Beh, adesso questo sta diventando... Abbiamo perso la nostra identità del rugby champagne, il rugby di possesso. Ridateci il pallone. Incredibile. E la Francia fino a poco tempo fa si chiedeva se avrebbe o non avrebbe fatto il record di vittorie consecutive con Galtier. I giocatori singoli. Ho sentito in settimana che Danty è scarso. Ho sentito in settimana che Moe Fanano può giocare all'ala. Viene criticata la scelta di Dupont di andare con la Francia 7, che dicono, ma sì, in fondo, ma chi se ne frega, ma fatelo giocare al 6 nazioni. In più, il fatto che nello stesso fine settimana abbia giocato con Tolosa è stata una cosa che ha fatto ancora rizzare i peli di punta a molti. Movacca. Movacca. Probabilmente il miglior giocatore della Francia durante il Mondiale. Dopo questa partita è stato criticato perché in fondo non sa tirare le touche. Ridateci Marchand. Fino a ieri dicevano no, Movacca ha superato Marchand, deve essere Movacca, deve essere Movacca. Sbaglia, mezza touche, ridateci Marchand. Lucu, Lucu, poveraccio, hanno sempre detto beh, noi abbiamo una profondità anche al 9, sì, è vero, Dupont, però poi abbiamo un grande leader come Lucu, guardate cosa sta facendo col Bordeaux, bla 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 bla. Adesso ne parlano come una mezza sega. È incredibile. È veramente incredibile come il risultato ti cambi totalmente la percezione. Sembra un po' sentire i processi del lunedì alle nostre squadre di calcio dopo qualche sconfitta, no? Oggi, per esempio, Bougelal, l'ex presidente del Tolone dei Galacticos, bene, oggi Bougelal, che è un personaggio in Francia anche politico, proprio oggi in Asparatevari, eccetera, eccetera, Bene, tra le tante del tutologo Bougelal, oggi ha detto Galtier, che è stato suo allenatore, non spiega mai niente. Ha detto ha cacciato tutta la gente che non gli dava ragione e uno che ama circondarsi da yes man. Insomma, ha detto lo conosciamo, è uno che mette i giocatori al muro e non sa tenere lo spogliatoio. parole dure, eh? Parole durissime. Due partite. Due partite. Insomma, non tira una bellissima atmosfera e allora poi ti vengono dei dubbi, magari dici ah, ma allora forse a Tonio è per quello che aveva rinunciato alla nazionale, poi ci ha ripensato, o magari anche Dupont voleva allontanarsi un po' da un clima tossico che tutti lo vedevamo come invece la famigliola del mulino bianco e invece guarda te che poi c'era del marcio sotto il tappeto, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo, vedremo. Due partite. Dall'altra parte abbiamo visto un'Irlanda interessante, un'Irlanda che invece, secondo me, ha ancora fiducia in Farrell e va detto una cosa, una cosa che ha detto anche Monari durante il podcast che ha fatto questa settimana con Antonio, ha detto è anche un po' obbligata ad avere fiducia di Farrell. Perché? Perché non possono proprio remare contro, al di là del fatto che non avrebbe senso perché comunque Farrell aveva costruito un gioco molto partecipativo, un gioco... Però le sconfitte, come abbiamo detto prima, se vale per la Francia vale anche per l'Irlanda. Sì, c'è un grande però, Farrell è l'allenatore dei British and Irish Lions e quindi tanti giocatori diranno sì, no, calma, non è che mi vado a mettere contro l'allenatore perché se la Francia fa come fece già più di una volta, ricordate Brunel, la rivoluzione interna cacciano l'allenatore, se lo facesse l'Irlanda, e beh, magari qualcuno dice vedi che Farrell poi non mi convoca più con i British and Irish Lions e British and Irish Lions significa molto, eh, significa molto a livello intanto monetario, a livello di immagine, a livello di carriera, ma poi anche proprio a livello personale, a livello di orgoglio, a livello di prestigio, cioè, è una è una parte importante per la carriera di qualsiasi grosso giocatore UK. UK e ovviamente Irlanda, quindi British and Irish ovviamente. Si era parlato, mentre con la Francia si era parlato della sostituzione Dupont, con l'Irlanda si era detto il problema Jack Crowley, come sostituiamo questo Sexton, però, caspita, Crowley è stato enormemente aiutato da tutta la squadra, bisogna veramente dargliene atto, poi ok, è stato aiutato anche da Willemms, ma questa è un po' un'altra storia. Tra l'altro, sempre Bugellal su Willemms ha detto che Willemms dovrebbe rivedere la Nazionale solo nelle figurine Panini, e io ho detto caspita, in Francia hanno le figurine Panini del rugby, ma facciamolo anche in Italia, Panini, 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 chiamatemi, chiamatemi che lo facciamo insieme. Va bene, voglio l'album Panini degli regbisti italiani. Comunque, per tornare su Crowley, dopo un inizio un po' timido, Gibson Park ha iniziato a prendersi cura, Gibson Park ha detto ti faccio io un po' da babysitter, mentre con Sexton ovviamente era Sexton che comandava, Gibson Park ha iniziato a prendersi cura degli spostamenti degli avanti, Bundiaki ha continuato a fare i buchi in mezzo al campo che faceva in Nazionale con tutte le varie opzioni di passaggio che ha giocato le Bundiaki, James Lowe ha a sua volta continuato a disegnare il campo col piede e allora Crowley che insomma proprio scarso non è, vi ricordate per esempio una su tutte il drop della partita con Leinster dell'anno scorso, bene, anche Jack Crowley è entrato in ritmo e vedi mai, vedi mai, vedi mai che è un giocatore che viene magari anche da un ambiente diverso dal Leinster dove tanti erano un po' diciamo all'ombra di Sexton un giocatore che viene invece dall'altra parte viene da da Munster magari si senta anche più libero di prendersi quel suo posto senza per forza dover essere la coppia la brutta coppia perché solo quello potrebbe essere di Sexton e infine Scozia Galles infine Scozia Galles allora partita assurda partita assurda ragazzi chi mi segue nei pronostici che metto con le quote nel gruppo la Moldi Dampat sa che io ero andato letteralmente in all-in in tutte le salse con la Scozia in all-in in tutte le salse con la Scozia a proposito se qualcuno volesse entrare nel gruppo è un gruppo aperto a tutti coloro che contribuiscono in qualche maniera al canale quindi insomma una donazione un super thanks per i Patreon per quelli che fanno la join tra l'altro ringrazio tutti quelli che l'hanno fatta questa settimana insomma dopo aver dato un piccolo contributo al canale mandatemi un messaggio diretto o su Instagram o alla mail che trovate sotto e vi metto molto volentieri nel gruppo se non potete o volete dare un contributo al canale in questa maniera ma pensate di poterlo dare comunque nel gruppo di discussione scrivetemi lo stesso che alla fine è l'idea che conta insomma è il contributo che potete dare voglio creare un bel posto uno zoccolo duro di chi vuole spingere comunque torniamo torniamo a Scozia-Galles allora dicevo io ero andato in all-in ero andato in all-in con la Scozia anche perché per me si incrociavano la squadra forse più serena del torneo sì perché è vero hanno avuto il problema della nazionale del mondiale anche loro però loro insomma ampiamente giustificati visto il girone con un Finn Russell a cui avevano dato pieni poteri capitano gli hanno dato anche la fascia di capitano con Dargi che però non c'era in questa partita quindi insomma Finn Russell libero tranquillo Scozia con un buon entusiasmo e contro nella mia testa sbagliata avevano niente niente nessuno avevano una squadra che era fatta da gente che fa fatica nello URC cioè io mi dicevo caspita ma sta Scozia il Benetton a sto Galles il Benetton gliele dà per dire no? non una nazionale il Benetton che tra l'altro è facsimile di molte cose della nazionale italiana e insomma il primo tempo i primi minuti del secondo tempo beh ne hanno confermato appieno la mia idea stavano sotto di 27 ho detto vabbè adesso ne prendono 50 e invece quando meno te lo aspetti quando meno te lo aspetti il Galles il Galles il Galles che si è stufata di farsi scherzare come si dice da Finn Russell che aveva messo in piedi uno show e allora intanto qualche cosa che risvegli qualche pizzicotto perché arriva un giallo per la Scozia pizzicottino al Galles vedi che ti potresti anche svegliare arriva la prima meta di Moll qualche decisione arbitrale favorevole al Galles probabilmente anche per pigrizia e distrazione della Scozia altro pizzicotto vedi che qui le condizioni le situazioni iniziano ad esserci lo stadio che inizia a spingere e allora escono fuori i leader ma come non ce ne sono più sono tutti andati via Wayne Wright arriva Wayne Wright Wayne Wright che prende in mano la squadra Refel si mette a placare il mondo e partita riaperta mamma mia mamma mia mamma mia poi alla fine comunque la Scozia la svanga tra l'altro avrebbe potuto anche segnare un'ultima meta la meta del bonus che veramente ha non so non l'ha schiacciata per neanche mezzo centimetro meno per un pelo per un pelo non ha schiacciato l'ultima meta Van der Merwe quella che sarebbe stata la tripletta e allora per chiudere il ragionamento due domande qual è il vero Galles e qual è la vera Scozia perché il vero Galles è quello del primo tempo cioè una squadra scarsa per dire le cose come stanno una squadra da bassa classifica in URC o è quello del secondo tempo che è capace di rimontarti 25 punti a una Scozia 26 punti a una Scozia che potrebbe essere anche candidata per vincere il torneo probabilmente una via di mezzo probabilmente una via di mezzo io ho l'impressione che sia forse a livello di organico più quello del primo tempo però però è un animale che se tu lo stuzzichi una zampata è capace di dartela soprattutto con la maglia rossa al millennium cioè questi giocatori qui un conto è oggi come oggi quando giocano con gli Ospreys con Cardiff con gli Scarletts un conto è quando giocano con la maglia dei dragoni al millennium al municipality e una zampata te la danno e sebbene assestata occhio che rischi anche di restarci secco rischi anche di restarci secco capito Italia capito Italia capito Italia andiamo lì eh e la Scozia che bestia è? beh la Scozia per me potrebbe essere quella del primo tempo onestamente nel secondo tempo dopo la magia clamorosa di Russell che ha aperto la strada alla meta di Van der Merve si è un po' adagiata si è un po' addormentata abbassato il livello non ha più capito cosa stava succedendo e insomma e anche Russell che era il Russell poetico del primo tempo che ti fa un 50-22 pazzesco dopo aver spostato la difesa il passaggio della prima meta appunto del secondo tempo per Van der Merve con lo slalom eccetera e si spegne un po' e perde un po' il filo del discorso resta attenzione quello sì attento in difesa perché si parla sempre del Russell dell'attacco ma occhio che questo Russell sta migliorando veramente tanto anche in difesa e anche nei calci a pali sta migliorando quindi la Scozia non lo so io la vedo più quella del secondo tempo se fossi scozzese la mia grande paura non sarebbe ma la Scozia è quella del primo tempo o quella del secondo tempo la mia grande paura sarebbe e se ci manca Russell che cosa succede lasciamo la domanda aperta e andiamo a fare il 15 della settimana di questo primo turno allora al numero 1 metto Schumann 14 placaggi meta gran battaglia in tutta la partita al numero 2 metto Dan Sheehan c'era una sfida testa testa forse tra i due tallonatori più forti del mondo ad oggi Sheehan e Mouvacá secondo me con Marciana anche che potrebbe entrare nell'otto e beh la vince la vince Sheehan secondo me la vince Sheehan al numero 3 unico francese a salvare il sederino a Tonio a Tonio però a Tonio si è fatto veramente sentire ha dato tanto filo da torcere a Porter e magari a un certo momento avrà pensato ma sapete che forse era meglio se restavo sulla prima scelta perché vada a qualche disastro al numero 4 un giocatore che non è entrato stranamente in quasi nessun 15 della settimana ma io lo metto nel mio ha letteralmente letto tutte le nostre rimesse e ha recuperato anche due palloni nel breakdown avete capito sto parlando di Maro Itoja al numero 5 McCarthy prima titolarità seria dicevamo dopo una con la Romania si prende subito il man of the match ed è ovunque letteralmente ovunque McCarthy 22 anni a proposito di giovani esordienti o semi esordienti al 6 si mettiamo Ethan Roots l'ho un po' sottovalutato quando dicevo che il man of the match non era giustificato perché poi rivedendo numeri e partita beh si ha fatto una gran partita io l'avrei comunque dato a Mitchell io l'avrei comunque dato a Mitchell ma Roots ha fatto una gran partita al numero 6 mettiamo Josh Vander Flier o Vander Flyer non ho mai capito come si dice se la gioca con Refel se la gioca con Refel alla fine dei due ho premiato chi ha vinto poi la sua partita al numero 8 invece anche se l'ha persa non potevo non premiare Wainwright beh se il Galles avesse portato a casa la gara diciamo che Wainwright ne avrebbe avuto una gran parte del merito ed è uno dei pochi appigli a cui dovrà ricorrere Gatland per il resto del torneo al numero 8 beh l'ho appena detto Alex Mitchell Alex Mitchell ci ha letteralmente ucciso con i suoi calci dalla base ma poi non solo quello bene la distribuzione fa la meta contestata era meta non era meta si è alzato non si è rialzato intanto l'ha fatta e ha fatto una gran partita al numero 10 Savasandir Finn Russell semplicemente ecco 50 minuti di rugby paradisiaco in attacco e 80 minuti seri in difesa al numero 11 restiamo da quelle parti e metto Van der Merve doppietta quasi tripletta e si passa al prossimo avversario e al numero 12 Bundiaki Bundiaki io mi dicevo chissà come arriva Bundiaki sarà stanco dal mondiale dove era stato letteralmente stratosferico si era preso due men of the match e un altro non gliel'avevano dato giusto per insomma era stato pazzesco beh sembra che sia ancora quello sembra che sia ancora quello forse il centro più forte del mondo al giorno d'oggi e a fianco a lui non è ancora il più forte del mondo però insomma Tommy Menoncello ma ve la immaginate una copia di centri Bundiaki Menoncello mamma mia mamma mia mamma mia ok su Tommy dai non serve dire niente di più avete visto la partita avete visto la partita di Tommy e a proposito di Tommy al 14 un altro Tommy Tommy Freeman è un altro debuttante altro debutto per lui come per Ruth insomma un debutto da ricordare per lui e da raccontare da dimenticare per noi con Garbisi e Brex che sono ancora lì a chiedersi ma era mio era tuo era mio era tuo fatto sta che è passato in mezzo e al numero 15 Hugo Keenan kicking game belle coperture in difesa ce n'è una su Damian Penot non proprio l'ultimo arrivato veramente interessante partita che sembra normale amministrazione ma quando dall'altra parte devi placare Penot non è che sia proprio così scontato bene ragazzi sono arrivato alla fine di questo video spero che vi sia piaciuto ditemi nei commenti che cosa avreste cambiato nel vostro 15 della settimana raccontatemi le vostre sensazioni su tutte le partite domani faremo un video simile sul 6 nazioni under 20 stay tuned perché hanno iniziato anche i ragazzi e poi da venerdì iniziamo a ragionare sul secondo turno di questo fantastico torneo vi piace di più il 6 nazioni o il mondiale ditemelo ciao un bacio ricordatevi il codice sconto di Enervit grazie a tutti grazie a tutti